E se parliamo di patologie oncologiche nel nostro territorio, qui abbiamo proprio tre professionisti che di questo si occupano 365 giorni all'anno. Allora abbiamo visto la donazione del fondo, dicevamo è una delle tante, parliamo però dell'attività oncologica perché dicevo in conferenza è uno dei temi che forse preoccupa un po' di più i cittadini. Biella non si è mai fermata o quasi? Assolutamente no, Biella ha avuto un iniziale momento di crisi nei due o tre mesi di lockdown assoluto, però i numeri che noi abbiamo tirato fuori nel 2020 e 2021 sono quasi in linea come quelli del 2019. C'è una levissima flessione che però si era andata recuperando negli ultimi mesi del 2021, però sia come numeri sia come accessi siamo assolutamente in linea con gli anni precedenti. Allora parliamo con un nuovo acquisto, il dottor Bortolini dicevano i suoi colleghi che arrivano anche da fuori provincia. È vero, in questi mesi che ho iniziato a lavorare qui abbiamo visto che migliorando anche l'offerta chirurgica che riusciamo a dare e soprattutto la disponibilità dell'ospedale a seguire questo percorso abbiamo aumentato anche i numeri e arrivano da fuori provincia, quindi siamo molto contenti. Allora dottor Leone, lei diceva ovviamente l'azienda sanitaria fa molto ma non può arrivare dappertutto, sono tanti gli aspetti moltissimi che insomma circondano le persone colpite dal cancro. Certo, queste collaborazioni con le ONLUS ci permettono di arrivare dove con le nostre forze non arriviamo, sono progetti molto importanti perché rispondono a dei bisogni di primissima importanza, quali il bisogno di riallacciare le relazioni sociali, il sentirsi bene anche dopo un intervento chirurgico, non è solo curare una malattia ma avere comunque delle possibilità di impattare sulla qualità di vita che per noi sono molto importanti. Queste collaborazioni ci danno una possibilità sicuramente impagabile di poter offrire dei complementi che per i pazienti sono indispensabili. Ecco, lei parlava ovviamente anche dell'aspetto psicologico, in ASLE c'è anche un supporto di questo tipo? Assolutamente sì, fa parte dei primi passi che il paziente fa all'inizio del suo percorso, quello di essere indirizzato a un counseling di tipo psicologico, abbiamo una collaborazione praticamente contestuale col servizio di psico-oncologia che prende in carico le situazioni di pazienti e di familiari che hanno bisogno di un supporto a questo livello. Allora, grazie mille davvero, buon lavoro, arrivederci.